Il raddoppio mai realizzato della linea ferroviaria tra Pistoia e Via Reggio, la decisione di sopprimere alcune stazioni tra Pistoia e Lucca e la mancata consegna dei nuovi treni attesi in tutta la Toscana. Su queste criticità del trasporto pubblico toscano la Commissione Mobilità del Consiglio regionale chiederà alla Giunta di dare spiegazioni. Durante l'ultima seduta della Commissione i consiglieri regionali hanno incontrato i cittadini dei coordinamenti provinciali e hanno stabilito di provare a fare chiarezza sulle questioni più urgenti. La prima riguarda i 116 milioni di euro, 70 della regione e 46 di RFI, che dovevano servire per completare il raddoppio della linea Firenze-Viareggio, infrastruttura oggi ferma a Pistoia. Poi c'è la questione della soppressione della stazione ferroviaria lungo la tratta tra Viareggio e Pistoia per velocizzare la linea. Su questo procedimento la Commissione chiederà alla Giunta una mediazione, visto che il progetto bocciato all'unanimità dal Consiglio al momento è stato solo sospeso. Infine la Commissione vuole capire dove sono finiti i 40 nuovi convogli che dovevano entrare in servizio su varie linee, tra cui anche la Firenze-Viareggio, come previsto dal contratto tra Regione e Trenitalia. Di questi treni ne sono entrati in servizio solo 8, come emerge dall'indagine sul trasporto pubblico locale, realizzata dalla Commissione Mobilità e Infrastrutture.